Bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti. Sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi mi siedo qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Dunque se mi seguite su Instagram sapete che nei giorni scorsi o nelle settimane scorse, non so bene quando uscirà questo video, sono stata infissa totalmente con un telefilm di Netflix che si chiama Clickbait. Mi avete scritto in tanti dicendomi che è piaciuto molto anche a voi e tralasciando il fatto che la trovo una serie molto ben fatta, molto coinvolgente, ha portato anche me e Edo, mio marito, a riflettere molto su alcune cose. Se non avete visto il telefilm tranquilli non vi farò nessuno spoiler, ma abbiamo iniziato a conversare su come i social media e internet in generale abbiano un impatto sulla vita reale. E, collegandoci ovviamente alla serie, di come alcune persone non concepiscano la realtà virtuale e la realtà reale come una stessa realtà. Perché alcune persone postano online dei commenti, delle foto, dei video, come se fosse un gioco, senza pensare neanche per un momento che cosa quel commento, quella foto, quel video, 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 potrebbe significare per la persona che lo riceve. La cosa mi tocca in prima persona perché ricevo ogni giorno commenti molto cattivi, alcuni proprio disgustosi, di gente che davvero non pensa che se magari io soffrissi di una brutta depressione, per esempio, e ricevessi dei commenti del genere, questi commenti potrebbero anche essere letali. Per fortuna, come vi dico sempre, questo genere di commenti è neanche l'1% di tutti i commenti meravigliosi che mi lasciate ogni giorno. Ma, insomma, facendo tutti questi discorsi con Edo, guardando questo telefilm, mi è venuto in mente questo caso, di cui voglio parlarvi e capirete il motivo, insomma, capirete perché mi è venuto in mente nel corso del video. Oggi parliamo della scomparsa di Kyla Berg. Kyla nasce il 29 agosto del 1993 e aveva solo 15 anni quando è scomparsa. E mancavano solo due settimane al compimento del suo sedicesimo compleanno, che come forse saprete in America è un compleanno molto importante, quasi quanto i 18 anni qua per noi. Kyla aveva un fratello più grande, non ci sono molte informazioni su di lui, ma credo di aver capito che avesse intorno ai 18 anni. Ed era molto legata ai suoi genitori. I suoi genitori avevano divorziato quando Kyla era ancora una bambina. E il divorzio, chiaramente, per un bambino è sempre molto difficile da affrontare, ma in questo caso Kyla aveva anche dovuto affrontare qualcosa di ancora più pesante, perché poco dopo il divorzio il suo papà aveva scoperto di avere un cancro. Quindi per Kyla è stato molto difficile affrontare tutti questi cambiamenti che sono avvenuti nell'arco di così poco tempo e ad un'età così giovane. Ma Kyla aveva un carattere, un'attitudine molto positiva e ha sempre cercato di tirarsi su, di distrarsi. E una cosa in cui si è totalmente immersa è la ginnastica artistica. La ginnastica era sicuramente uno sfogo per lei, ma oltre questo Kyla era proprio brava. Aveva davvero un talento e i suoi genitori lo sapevano, ne erano consapevoli e anche tutti i suoi amici la supportavano e la incoraggiavano a continuare questo sport, dicendole che se avesse continuato un giorno sarebbe finita sicuramente alle Olimpiadi. Kyla è cresciuta in Wisconsin, in un posto, una cittadina di nome Antigo, che era proprio un paesino minuscolo, uno di quei posti in cui ci si conosce tutti. Aveva un bel gruppo di amici, amici che conosceva da una vita. I genitori di questi amici erano amici, quante volte ho detto amici ho perso il conto comunque, della sua famiglia. Insomma, era uno di quei posti in cui gli abitanti diventano una sorta di comunità. E, come dico in un sacco di video, un posto in cui ci si sentiva sempre al sicuro e in cui non succedeva mai niente. Ogni volta che dico che non succedeva mai niente, poi chiaramente succede qualcosa di tragico perché sennò non saremmo qua a parlarne. Dunque Kyla era un adolescente, giusto? Aveva 15 anni. E come spesso succede a quell'età, aveva iniziato a sperimentare, a uscire un po' di più, ad andare alle prime feste. E quando Kyla e i suoi amici andavano, appunto, a queste feste o nei locali, andavano in una città di nome Wazao, che sicuramente sto pronunciando male, ma facciamo finta che si pronunci così. Questa città era molto più grande di Antigo e si trovava a circa 50 km da lì. A Wazao c'erano molte più cose da fare, c'erano molti più locali, quindi tutti i ragazzini o i ragazzi giovani di Antigo, nel weekend o quando volevano fare festa, andavano tutti a Wazao. E Kyla aveva iniziato da poco a frequentare questi ambienti. Aveva iniziato a bere le prime bevande alcoliche. Vabbè, come sapete, in America non si può bere alcol prima dei 21 anni e sono molto severi su questo, ma i ragazzi giovani, insomma i ragazzi minorenni, trovano sempre un modo per aggirare questa cosa, o riescono a ottenere un documento falso, oppure trovano spesso qualche adulto disposto a comprare queste bevande alcoliche al posto loro. Quindi Kyla faceva tutte queste cose, ma chiaramente cercava di tenerle il più nascoste possibili a sua mamma, che però dopo poco ha iniziato a sospettare qualcosa. Aveva notato diversi cambiamenti in sua figlia. Anche perché Kyla aveva anche iniziato ad uscire insieme ad un ragazzo, che però era molto più grande di lei, perché aveva 19 anni, e si chiamava Miguel. Miguel viveva proprio a Wazao e organizzava spesso e volentieri queste feste a cui Kyla andava. Sua madre ovviamente non approvava nulla di tutto ciò. Secondo lei Miguel era troppo più grande di Kyla. A 19 anni uno fa cose ben diverse da quelle che uno fa a 15, e sentiva che Kyla stesse bruciando le tappe un po' troppo velocemente. Sapeva che Kyla crescendo avrebbe sperimentato cose nuove, situazioni nuove, ma sentiva che si stava facendo influenzare dalle persone sbagliate. Di conseguenza era molto preoccupata per lei, ma era anche preoccupata per se stessa, nel senso che in quel periodo le cose non le stavano andando molto bene. Aveva delle grosse difficoltà sul lavoro e non riusciva a guadagnare abbastanza soldi, quindi ad un certo punto decide di prendere sua figlia Kyla e di trasferirsi in Texas, posto in cui viveva la sua famiglia, in modo da trovare un altro lavoro, un lavoro che pagasse meglio. Kyla accetta, e questo vi fa anche capire che tipo di persona fosse Kyla, molto altruista, aveva deciso senza esitazione di lasciare la sua scuola, i suoi amici, il suo ambiente per accontentare sua mamma. La permanenza in Texas però non dura molto. Infatti Kyla scopre che il liceo in cui sarebbe dovuta andare a settembre non aveva un team di ginnastica artistica, e per lei questo è stato un duro colpo, perché la ginnastica era la sua vita. Kyla aveva intenzione di farne una carriera un giorno e comunque era anche una grande valvola di sfogo per lei, quindi l'essere costretta a rinunciare a tutto questo rende Kyla veramente triste. Ma allo stesso tempo anche sua mamma non è felice lì. Il Texas non è proprio come se l'era immaginato e stava avendo molte più difficoltà di quelle che pensava nel trovare un nuovo lavoro. L'ambiente in generale non le piaceva e in più ovviamente vedere sua figlia così triste la porta a cambiare idea e a voler tornare ad Antigo, nel Wisconsin, dove vivevano prima. Oltretutto il cancro del papà di Kyla era peggiorato improvvisamente e non sapevano per quanto tempo ancora sarebbe rimasto in vita. Motivo in più per tornare ad Antigo e passare gli ultimi momenti insieme a lui. Arrivano ad Antigo il 2 agosto ma lì non avevano più una casa perché l'avevano lasciata prima di trasferirsi in Texas e non ne avevano ancora trovata una nuova ma erano così emozionate di lasciare il Texas e tornare ad Antigo che avevano pensato di risolvere la cosa una volta arrivate lì. Decidono che Kyla sarebbe andata a vivere con il papà e i suoi nonni che in quel periodo vivevano insieme al padre per prendersi cura di lui. Invece sua madre aveva deciso di andare a vivere con una sua amica finché non avrebbe trovato un nuovo appartamento. Una delle prime cose che Kyla fa appena arrivata ovviamente è vedere i suoi amici. Mancavano circa due settimane all'inizio della scuola quindi in quelle ultime due settimane di vacanze estive vanno tutti ad un sacco di feste e cercano di divertirsi il più possibile. Una di quelle sere infatti Kyla dice a sua mamma che avrebbe passato la notte dalla sua amica Natosha. Le due insieme al resto del gruppo di amici decidono di andare ad una festa nella città di Wazow come facevano ogni weekend. Ma la mattina dopo la mamma di Natosha si accorge che né sua figlia né Kyla erano tornate a casa quella notte. Al che telefona subito alla mamma di Kyla e le due nel panico decidono di andare alla polizia ma proprio mentre stavano per denunciare la scomparsa delle due ragazzine ricevono una telefonata da parte di Kyla e Natosha che dicevano di stare bene, di stare tranquille che semplicemente si erano addormentate alla festa a cui erano andate. La madre di Kyla l'aveva ovviamente rimproverata e le aveva fatto promettere che non sarebbe mai più andata a Wazow. Kyla le aveva chiesto scusa e le aveva promesso che non sarebbe andata mai più. Qualche settimana dopo, l'11 agosto, Kyla telefona a sua mamma e le chiede se poteva passare la giornata a casa della sua amica Natosha e sua madre le risponde di sì. Kyla quindi va, le due passano qualche ora al parco per poi tornare a casa di Natosha e rimangono lì fino alle 5 del pomeriggio. Ora in cui Natosha doveva attaccare il suo turno di lavoro perché faceva un lavoretto part time estivo. Kyla decide di rimanere a casa di Natosha per un po' e questo perché lì c'erano anche il fratello maggiore di Natosha insieme al suo amico Kevin, un ragazzo di 24 anni. Sia il fratello di Natosha sia questo Kevin erano grandi amici del fratello maggiore di Kyla quindi Kyla conosceva questi ragazzi da quando era nata e dico questo perché non era strano che Kyla, una ragazza di 15 anni passasse del tempo con questi ragazzi così più grandi di lei. Spesso nei paesini si passa al tempo insieme i gruppi si fondono indipendentemente dall'età infatti Kyla e Kevin si mettono d'accordo per uscire insieme quella sera. Dopo un po' Kyla torna a casa sua, a casa di suo papà e intorno alle 8 e 45 di quella sera telefona a Kevin chiedendogli di passarla a prendere per uscire. Kevin le dice ok, quindi Kyla corre da suo papà, lo saluta gli dice che appunto stava uscendo con Kevin e che sarebbero andati insieme a casa di un'altra loro amica e che sarebbe tornata a casa sua dopo un paio di ore ma il mattino dopo il papà di Kyla nota che sua figlia non è mai tornata a casa quella notte al che telefona immediatamente a Kevin per chiedergli spiegazioni Kevin gli risponde che l'ultima volta che aveva visto Kyla stava bene l'aveva accompagnata a casa di una sua amica e poi da lì non l'aveva più vista né sentita il padre di Kyla chiama subito la madre e insieme però decidono di non andare nel panico pensando appunto a quell'incidente che era avvenuto solo poche settimane prima in cui Kyla si era addormentata alla festa a cui era andata e non era tornata a casa la mattina ma alla fine non era successo niente decidono quindi di aspettare prima di andare alla polizia né Kyla né le sue amiche possedevano un cellulare quindi l'unica cosa che i genitori possono fare è chiamare a casa di tutte le persone che Kyla conosceva per chiedere se qualcuno l'avesse vista se qualcuno sapesse qualcosa scoprono che solo una di loro aveva visto Kyla quella sera una ragazzina di nome Beth l'aveva vista insieme a Kevin ed erano tutti e due entrati nel McDonald's in cui lei lavorava in cui questa ragazzina Beth lavorava Kyla aveva salutato Beth e le aveva detto appunto di essere insieme a Kevin e che il loro programma per quella sera era di guidare un po' in giro fumare dell'erba insieme e le dice anche che poi più tardi l'avrebbe chiamata ma Beth non riceve mai nessuna chiamata da parte di Kyla da questa informazione passano quattro giorni i genitori di Kyla sono convinti che la loro figlia sia a casa di qualche sua amica e che si sarebbe fatta viva questo perché tutti gli amici di Kyla che avevano contattato erano molto tranquilli e tutti li avevano rassicurati dicendogli ma no io so che Kyla è a casa di questa sua amica e magari l'altra amica gli diceva no ma io so che è a casa dell'altra sua amica state tranquilli sta bene l'ho sentita l'ho vista tutti li avevano rassicurati e in questo modo loro avevano fatto passare quattro giorni e so già che cosa state pensando perché hanno fatto passare così tanto tempo perché non hanno fatto qualcosa subito e ho pensato anche io questa cosa ma c'è da considerare credo il contesto io sono cresciuta in una città molto grande ed è ovvio che se non fossi tornata a casa una mattina i miei genitori penso avrebbero subito denunciato la mia scomparsa ma se invece penso al minuscolo paesino in cui per esempio andavo in vacanza ogni estate e penso alla vita che le mie amiche facevano lì e a quanto ci si sentisse al sicuro in quel paese penso che in quel contesto non sarebbe stata così tanto strana una situazione del genere con questo non voglio giustificare i genitori però un programma televisivo americano ha fatto una puntata su questo caso e in questa puntata hanno descritto i genitori come se non gliene fosse fregato niente come se avessero aspettato questi quattro giorni dicendo ah ma sì chi se ne frega nostra figlia è scomparsa pazienza e il pubblico ha lasciato una miriade di commenti orribili la famiglia ha sofferto moltissimo per come questa trasmissione li aveva dipinti quindi non voglio giustificarli perché noi non eravamo lì e non sappiamo non conosciamo il contesto quindi sto solo cercando di contestualizzare il loro comportamento senza giudicarli per forza quindi dalle ricerche che ho fatto traspare che questi genitori erano stati davvero confusi da tutti questi amici di Kaila che li avevano convinti che Kaila stesse bene e che fosse a casa di uno di loro e questo probabilmente perché volevano coprire Kaila perché magari erano sicuri che stesse bene e non volevano metterla nei guai mentre invece chiaramente hanno fatto l'esatto opposto comunque dopo quattro giorni un'amica di Kaila di cui i genitori si erano completamente dimenticati ed era stata l'unica persona che non avevano contattato questa ragazza li contatta e gli dice Kaila è qui con me, sta bene i genitori quindi tirano un sospiro di sollievo ma poco dopo il fratello di Kaila va da questa ragazza per confermare questa informazione ma purtroppo richiama i genitori dicendogli che non era vero questa ragazza aveva mentito Kaila non era a casa con lei e non era mai stata con lei in quei giorni e di nuovo perché questa ragazza avesse mentito non si sa, probabilmente voleva appunto coprire Kaila comunque a causa di questa falsa informazione passano altri due giorni a questo punto erano passati sei giorni in totale avevano contattato tutti gli amici di Kaila e nessuno sapeva niente quindi finalmente decidono di denunciare la scomparsa di Kaila alla polizia la polizia non prende questo caso seriamente nel senso che sono convinti che Kaila si sia allontanata volontariamente che sia scappata via vanno ad interrogare tutti quegli amici con cui i genitori di Kaila avevano già parlato e notano subito che questi ragazzini erano tutti molto evasivi come se sapessero dove fosse Kaila come se sapessero che Kaila fosse scappata via ma non volessero rivelarlo le autorità vanno dunque da quella che in teoria era stata l'ultima persona ad aver visto Kaila ovvero Kevin gli chiedono dove l'avesse lasciata quella sera a casa di chi e lui risponde di aver lasciato Kaila non a casa di un'amica come aveva detto all'inizio ai genitori ma a casa del fidanzato Miguel a Wasau ma quando interrogano Miguel vi ricordate il ragazzo di 19 anni lui dice che non era vero lui non aveva visto Kaila quella sera a questo punto è chiaro che qualcuno stia mentendo tornano quindi a casa di Kevin Kevin era l'unica persona che aveva sicuramente passato del tempo con Kaila quella sera quindi doveva sapere qualcosa la polizia gli chiede quindi di fornirgli l'indirizzo esatto del luogo in cui aveva lasciato Kaila quella sera ma quando Kevin fornisce l'indirizzo e la polizia si reca sul posto scoprono che quello era l'indirizzo di una casa abbandonata in mezzo al nulla ora a quanto pare in questa casa aveva vissuto Miguel qualche tempo prima mesi prima ma poi questa casa era stata dichiarata inagibile dalla legge perché era mezza diroccata e da diverso tempo Miguel era andato a vivere in un'altra casa che aveva preso in affitto a circa un chilometro e mezzo da lì ma Kaila sapeva benissimo dove vivesse Miguel infatti era già stata diverse volte nella sua casa nuova in cui viveva da parecchi mesi ormai e sapeva benissimo che quella vecchia casa era abbandonata quindi perché mai avrebbe dovuto chiedere a Kevin di farsi accompagnare lì la casa era oltretutto chiusa non c'era neanche modo di entrarci quindi non aveva senso le autorità a questo punto vogliono capire perché Kevin avesse smollato una ragazzina di 15 anni in un posto del genere Kevin conferma che quando l'aveva accompagnata lì le luci di questa casa erano spente era chiaro che non ci vivesse nessuno era chiaro che fosse una casa mezza diroccata e abbandonata ma racconta di averla comunque fatta scendere lì e di essere andato via senza prima assicurarsi che ci fosse qualcuno ad aspettarla che Kaila fosse al sicuro l'aveva smollata lì era andato via e ricordiamoci tutti che Kevin a 24 anni dovrebbe essere un attimo il più responsabile in tutta questa storia ma a quanto pare no quando la polizia fornisce questi dettagli alla famiglia di Kaila e ai suoi amici tutti sono immediatamente certi che ci fosse qualcosa sotto e questo perché chiunque conoscesse Kaila sapeva che aveva una paura incredibile del buio e se c'era una cosa di cui tutti erano sicuri è che Kaila non avrebbe mai chiesto di essere accompagnata in un posto del genere e non sarebbe mai scesa da una macchina da sola per rimanere in un posto così o perlomeno non l'avrebbe mai fatto volontariamente per tutti questa era la conferma che Kevin stesse mentendo purtroppo come già detto Kaila non aveva un cellulare quindi era impossibile tracciare i suoi movimenti dovevano basarsi solo sulle testimonianze delle persone l'amica che lavorava da McDonald's l'aveva vista quella sera insieme a Kevin quindi il fatto che lei e Kevin fossero insieme quella sera era l'unica pista che avevano era l'unico indizio decidono di perquisire casa di Miguel il fidanzato di Kaila sia casa sua nuova in cui viveva in quel periodo sia la casa abbandonata ma non trovano nulla di strano e non trovano neanche nessuna traccia di Kaila e nella casa abbandonata era chiaro che nessuno fosse entrato lì da mesi controllano anche il cellulare di Miguel e scoprono che lui e Kaila non si erano neanche sentiti quel giorno non avevano mai pianificato di incontrarsi quella sera quindi a maggior ragione perché mai Kaila avrebbe dovuto chiedere a Kevin di farsi portare da Miguel in una casa in cui neanche viveva tra l'altro tutti sono estremamente sospettosi di Kevin e un mese dopo viene arrestato per condotta pericolosa credo si traduca in italiano perché per prima cosa aveva dato della droga ad una quindicenne vi ricordate che quella sera stavano fumando erba e dopodiché l'aveva scaricata in mezzo al nulla quindi le sue azioni l'avevano decisamente messa in pericolo ma viene rilasciato poco dopo perché queste accuse non portano a niente non c'erano prove Kaila non si trovava quindi non si poteva fare molto su Miguel il fidanzato di Kaila invece gli amici di Kaila non avevano molti dubbi sostenevano tutti che Kaila stesse molto bene con lui e che lui fosse molto dolce con lei e che non le avrebbe mai fatto del male pensavano tutti che Kevin avesse tirato in mezzo il nome di Miguel semplicemente per dare la colpa a qualcun altro e che avesse dato l'indirizzo sbagliato di casa di Miguel proprio perché forse lui non sapeva che Miguel si fosse trasferito nel frattempo al contrario di Kaila che invece lo sapeva e come ma Kevin a un certo punto riesce a fornire un alibi praticamente dice all'autorità che lui viveva in un posto di nome Dear Brook che distava circa un'ora dalla casa abbandonata in cui diceva di aver lasciato Kaila aveva lasciato Kaila in quel posto intorno alle 10 e mezza di sera e diceva di essere arrivato a casa sua intorno alle 11 e 30 e di averci messo quindi esattamente un'ora ad arrivare a casa e i suoi genitori confermano questa cosa confermano che Kevin fosse arrivato a casa a quell'ora, quella notte quindi sosteneva che non avrebbe avuto il tempo di fare del male a Kaila ma alle autorità questo alibi non basta anche perché avrebbe potuto fare del male a Kaila prima e avere il tempo di tornare a casa in orario le autorità quindi decidono di non escludere dalla lista dei sospettati né Kevin né Miguel decidono di fare altre indagini decidono di usare il luminol sia nella macchina di Kevin che in quella di Miguel e per quelli di voi che non lo sanno il luminol è un composto chimico che la polizia forense spruzza su delle superfici per rilevare tracce di sangue e con loro grande sorpresa in entrambi i veicoli vengono rilevate tracce di sangue ma purtroppo non riescono a identificarne l'origine al che decidono di fare analizzare le due macchine da dei cani molecolari e lo fanno in questo modo prendono dieci macchine totalmente a caso e le mettono tutte in fila e tra queste dieci macchine c'erano anche la macchina di Miguel e la macchina di Kevin i cani dovevano semplicemente annusare tutte queste macchine e identificare quella in cui sentivano odori di cadaveri e guarda un po' i cani vanno dritti alla macchina di Kevin e questi cani erano addestrati a rilevare l'odore di cadaveri non l'odore di persone non stavano fiutando l'odore di Kaila erano addestrati solo a rilevare l'odore di un corpo e rilevano l'odore di un corpo nella macchina di Kevin ma purtroppo anche questa prova non è abbastanza per accusare una persona di qualcosa quando le autorità controllano il telefono di Kevin scoprono una cosa un po' strana a quanto pare all'ora in cui Kevin diceva di aver lasciato Kaila in quel posto in mezzo al nulla aveva spento il telefono e lo aveva riacceso due ore dopo e questa cosa è un po' sospetta e proprio quando le autorità non avevano quasi più nessun dubbio sul fatto che Kevin fosse l'unica persona coinvolta la polizia scopre qualcosa su Miguel che confonde tutti a quanto pare Miguel possedeva un secondo cellulare di cui non aveva mai parlato alle autorità scoprono che questo cellulare la notte in cui Kaila era scomparsa si era agganciato ad una cella di una torretta telefonica in un posto a circa 60 km dalla casa abbandonata in cui in teoria Kaila era e sempre quella notte intorno alle 1.12 del mattino e alle 2.25 aveva ricevuto due telefonate ma queste due telefonate a quanto pare erano state talmente brevi che non era possibile che ci fosse stata una conversazione queste telefonate erano state tipo di un secondo l'una e non si sapeva chi fosse stato a chiamare e anche queste non erano grandi prove per carità ma la polizia pensava fosse molto strano che questo secondo cellulare di Miguel non fosse mai stato usato tranne la notte in cui Kaila era scomparsa però questo cellulare dimostrava anche che Miguel quella notte si trovava a 60 km da lì quindi primo non si trovava neanche a casa sua quindi di nuovo perché Kaila avrebbe dovuto chiedere a Kevin di accompagnarla a casa di Miguel se Miguel non era neanche a casa e seconda cosa questo significava forse che Miguel non avrebbe potuto far del male a Kaila perché non si trovava lì ovviamente non si sa c'erano tantissime teorie e moltissimi elementi strani che le autorità non riuscivano a capire ma purtroppo da quel momento in poi sia Miguel sia Kevin smettono totalmente di comunicare con le autorità e di collaborare tutto sotto consiglio dei loro avvocati ed essendo loro due gli unici sospettati avendo smesso di collaborare la polizia non sapeva veramente più come proseguire con le indagini nel 2010 la polizia decide di fare un'altra prova con i cani molecolari e ben due volte di nuovo i cani rilevano l'odore di un corpo e tutte e due le volte indovinate dove viene rilevato questo odore vicino casa di Kevin Kevin viveva a casa dei suoi genitori e vivevano in una casa molto grande una specie di casolare in mezzo alla campagna avevano anche diversi terreni intorno alla casa che coltivavano uno dei cani rileva l'odore di un cadavere proprio vicino casa di Kevin mentre un altro cane lo rileva in un campo di patate che era di proprietà della famiglia di Kevin e in cui Kevin lavorava quasi ogni giorno quindi cioè sembra che tutte le strade portino a Kevin e voglio dire è stata l'ultima persona ad aver visto Kyla tutte le informazioni che ha fornito si sono rilevate un po' false un po' confuse ambigue tre cani molecolari hanno rilevato l'odore di un cadavere in tre posti diversi tutti e tre collegati a Kevin sembra tutto chiaro come il sole ma purtroppo di nuovo queste erano tutte prove credo si dica in italiano prove indirette correggetemi se sbaglio credo si dica così ovvero non sono prove concrete e non sono sufficienti per appunto accusare una persona di un reato e anche quando ce ne sono tante come in questo caso a quanto pare tante prove indirette non fanno una prova concreta come potete immaginare amici più passava il tempo e più il caso si raffreddava diciamo così non c'era più niente che le autorità potessero fare di Kyla non c'è mai stata traccia e suo papà è purtroppo mancato nel 2011 a causa della sua malattia e questa cosa davvero mi spezza al cuore il fatto che sia morto senza mai sapere che cosa sia successo alla sua bambina questa è una cosa che davvero mi spezza al cuore a metà ma diversi anni dopo succede una cosa che è davvero scioccante questa è la parte che mi ha fatto venire in mente il telefilm di cui vi parlavo all'inizio perché ad un certo punto viene postato un video su youtube il video si intitola hi walter ovvero ciao walter e questo video vi farà venire la pelle d'oca questo video viene postato solo due mesi dopo la scomparsa di Kyla ma per qualche motivo non viene notato fino a diversi anni dopo perché infatti diventerà virale solo nel 2016 quindi sette anni dopo la scomparsa di Kyla proverò a inserire il clip in questo video sperando che youtube non si offenda e lascerò che il video parli da sé questo video ha ricevuto un'attenzione spropositata appunto nel 2016 penso che abbia superato il milione di visualizzazioni ma sono abbastanza sicura che il video originale sia stato cancellato da youtube questo video ha spaventato moltissime persone per ovvi motivi non c'era nessuna spiegazione nessun contesto solo questo video caricato non si capiva se fosse un video vero o uno stupido scherzo ma moltissime persone vedendo questo video hanno pensato che la ragazza chiusa nel bagno di questo pazzo fosse Kyla per molto tempo la gente su internet è impazzita letteralmente per questo video tantissime persone hanno chiamato la polizia segnalandogli la cosa le autorità hanno cercato di capire appunto se si trattasse di un video vero di un video falso e nel frattempo hanno contattato la famiglia di Kyla e gliel'hanno mostrato e gli hanno chiesto se riconoscessero la ragazza se quella ragazza fosse Kyla sua madre quando ha visto questo video amici è letteralmente collassata è svenuta ha perso i sensi il fratello di Kyla si è subito sentito male e questo perché erano tutti convinti senza nessun dubbio che quella fosse proprio Kyla dicono alle autorità che era lei i capelli erano i suoi i lineamenti del viso erano i suoi la voce e non c'era dubbio che fosse Kyla la sua famiglia stava guardando la loro figlia la loro sorella tenuta legata e imbavagliata nel bagno di un pazzo pervertito e questo per loro è stato assolutamente traumatico ma dopo poco tempo le autorità sono riuscite a rintracciare l'autore del video e a scoprire che non solo il video non era collegato a Kyla e alla sua scomparsa ma si trattava proprio di un video falso questo era diciamo un regista amatoriale se vogliamo chiamarlo così a cui piaceva fare questo genere di video così scioccanti e d'impatto questo ragazzo ha girato questo video pensando semplicemente voglio diventare virale voglio scioccare tutti voglio avere un sacco di visualizzazioni voglio che la gente si domandi questo video è reale non lo è per lui era soltanto un gioco l'avrà fatto e se ne sarà dimenticato forse avrà controllato un paio di volte per vedere se le visualizzazioni andavano su oppure no mentre dall'altra parte la famiglia di Kyla è andata avanti per diverso tempo pensando che quella fosse la loro bambina e pensando che sette anni prima questo pazzo la stesse tenendo prigioniera e domandandosi che fine avesse fatto chiedendosi se fosse ancora viva questo video che per un ragazzetto è stato una bravata neanche una cosa comunque di poco conto per una famiglia è stato uno degli eventi più traumatici della loro vita che non scorderanno mai e un piccolissimo lato positivo che è venuto fuori da tutta questa storia è stato che quando questo video è diventato virale e nel periodo in cui nessuno sapeva se fosse vero oppure no tantissima gente aveva ricominciato a cercare Kyla questo caso che era ormai diventato un cold case da molti anni aveva ricevuto di nuovo tantissima attenzione per quel periodo di tempo il che è stato buono ma purtroppo non ha portato a nulla se non a qualche segnalazione che però alla fine si è rivelata inutile e purtroppo ad oggi questo caso rimane irrisolto nella cittadina in cui Kyla è scomparsa girano alcune voci su quello che potrebbe esserle capitato e la più comune da quello che ho letto è che Kyla fosse rimasta incinta e che il papà di questo bambino non voleva che la cosa venisse fuori non si sa se si riferissero a Miguel a Kevin o se magari ci fosse una terza persona di cui non sappiamo nulla ma queste sono solo speculazioni le poche prove che erano venute fuori portavano a pensare che Kevin fosse coinvolto ma di nuovo ad oggi rimangono solo teorie per quanto riguarda invece quel video il mio pensiero è sempre lo stesso allenate l'empatia mettetevi sempre nei panni delle persone quando scrivete un commento cattivo quando postate qualsiasi cosa sui social non dimenticate mai a chi potrebbe arrivare quella cosa chi potrebbe intaccare e in che modo purtroppo da alcuni commenti che ricevo mi rendo conto che nonostante siamo nel 2021 c'è un sacco di informazione su un sacco di cose ancora oggi le persone tendono a nascondersi dietro questo muro che è l'internet e approfittano del fatto che ma sì è solo un commento è solo un video è solo un gioco c'è troppo di stacco tra quella che percepiamo come la vita virtuale e quella che percepiamo come la vita vera le parole che scrivete online le foto che pubblicate i video che postate siete voi siete sempre voi non dimenticatelo mai anche quando vi nascondete dietro un profilo falso o dietro un username anonimo comportatevi online alla stessa maniera di come vi comportereste nella vita vera la morale è le nostre azioni hanno un impatto sugli altri prima capiamo questa cosa prima il mondo sarà un posto migliore secondo me comunque queste erano tutte le informazioni che ho su questo caso io di nuovo vi ringrazio per tutti i commenti positivi che mi lasciate come vi ho già detto la parentesi che ho fatto prima riguarda l'1% dei commenti che mi arrivano ma è veramente un discorso più generale di così vi ringrazio perché il 99.999 di voi è veramente super super carino e lo sapete vi ringrazio continuamente sto iniziando a diventare noiosa e vi ringrazio anche per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci vediamo al prossimo video ciao ciao